questa roba dal documentario hai mai visto una ribellula così grossa? sembra un sapente sembra sembra che scava scavare la terra magari mette le uova ah giusto sta depositando quella che hai visto tu era una larva di ribellula quella è bella è bellissima sta depositando le uova forse spostiamoci che poverina ha trovato il punto buono perché sta facendo una roba importante sta depositando le uova sottoterra hai visto prima sulla canalezza una ribellula nascono sott'acqua e si fa le ali vengono fuori lì ha trovato il suo punto ideale il suo habitat sta mettendo le uova sottoterra guarda guarda sta scavando un uomo perché punta proprio la punta dietro uovo per uovo butta fuori le uova puntella che vada a fare il video mi fa cura di aspettare bellissimo sto video però magari si schiaccio star la ribellula che fa le uova in metto sua f productive dovrebbe da fare quasi la moviola e ma quanta energia perché ma non c'è la batteria lui però farà 500 uova quelle poche sopravvivono diventerà una bezza come questa la ribella di quasi dieci centimetri stasera mandi in tv io non lascerai così non l'ho mai vista tutte le mete sottoterra credibile pensa che magari ci vede nonostante tutto dice questo per me troppo importante e quindi non mi lascio cagare il cazzo io lascerai anche in pace vieni andiamo via la lasciamo vivere rilassa tenso questa è bellissima questa è una cena che valeva la giornata perché guarda che è lara non mi hai mai vista così grossa come sempre dice quelle piccole non l'ho mai visto fare le uova e nemmeno in un documentario l'ho mai visto abbiamo avuto una fortuna che è superiore a quelli che fanno i video poi una ribellula così grossa sembra quasi un serpente ma quanto è grossa guarda quanto insiste ogni buco è nuovo se non di più è una femmina hai visto che tira via le robe tirametti e sta depositando nell'acqua bassa sennò i pesci li vanno a mangiare e lì c'è la sabbietta che va bene e poi viene fuori quella larva lì che hai visto tu che sembrava un ragno invece aveva proprio gli occhi della ribellula lì le formiche non possono andare sul video gliel'hai fatto no? quella larva quando eri lì sopra sulla canaletta probabilmente hai già acceso la camera ma oggi? eh non veri lì c'era una libellula grossa? no sulla tua canaletta verde abbiamo visto un insetto ah si quello è una libellula è suo? ma magari non è suo ma è una libellula a stato larvale che viene acqua si nutre di zanzare infatti c'aveva una struttura gli occhi che sembrava poi il resto poi dopo si trasformano e diventano fanno le ali e vengono fuori quindi nascono acquati che nascono comunque sono animali fortissimi le libellule sono dei sono dei killer eccezionali io ho visto un documentario di libellule facciamo vedere la potenza di questi animali perché per far girare le ali si mangiano queste pulci d'acqua di tutto ma per fare ha sollevato un ramo per fare questo è un killer terribile perché vola come un elicottero e fermo va su va giù questa è una roba che è eccezionale questo animale non esiste un aereo inventato dall'uomo che possa fare quello che fa la libellula ma così si ferma si inchioda va su va giù come aerodinamicità si come sistema di volo incredibile ma che bella fa le onde addirittura un elicottero lo stavo ammirando invece poi c'è la bella lì la la turchese che è fantastica hai un elicottero? perfetto ma sento qualcuno? no ho il vento io metto la roba in frigo perchè anche quella quel quel melone lì se non lo mettevo in acqua fredda il sole a quello dove dito lo fanno in seconda sono pieno anche lato la metalina è l'acqua si si ok andiamo là? ma proviamo a fare la secchiata questa dai si magari si vieni qui avessi guardato ho mh e e e e e e